Ciao a tutti, bentornati. Allora, oggi vi volevo parlare anch'io, dico anch'io perché se ne è sentito parlare molto su YouTube in quest'ultimo periodo, del grande successo appunto della serie TV che è andata in onda su Netflix, Anna dei Capelli Rossi, e quindi di conseguenza del romanzo da cui è stata tratta la serie TV, uno dei romanzi più famosi di Lucy Maud Montgomery che è appunto Anna dei Capelli Rossi, io possiedo una copia un po' antica edita Mursia. Dunque, Anna dei Capelli Rossi tratta appunto la storia di Anna Shirley che è un'orfana di entrambi i genitori che viene affidata ai fratelli Catbert, Matthew e Marilla dall'orfanotrofio. Fidata per errore, in quanto i fratelli avevano richiesto per Green Gables, che è la loro fattoria, un aiuto da parte di un ragazzino, ma arriva Anna, una femminuccia. Quando Matthew incontrerà Anna alla stazione del treno, si accorgerà dell'errore, ma pur essendo un uomo burbero e introverso, farà molto presto a innamorarsi di Anna, si innamorerà di lei molto velocemente perché Anna è piena di fantasie, lo riempirà e lo stravolgerà con le sue parole. Arrivati a Green Gables, la stessa reazione non avrà invece Marilla, la quale, essendo una donna molto più pragmatica, vedendo accorsosi dell'errore, vuole rimandare Anna indietro all'orfanotrofio, ma di fronte anche lei alla strabiliante fantasia e tenerezza di Anna, presto scederà e aprirà il suo cuore. Allora, questo libro, a mio avviso, è un libro meraviglioso che veramente tutti dovrebbero leggere, non è assolutamente la letteratura per ragazzi da riservare solo ai ragazzi, gli adulti devono, secondo me, accostarsi a questo genere di letture, è un libro che per me è stato molto importante. Ricordo che al termine della lettura mi era piaciuto talmente tanto che mi informai se esistesse qualcos'altro di questa autrice, ma volevo qualcos'altro che mi parlasse ancora di Anna. Scoprì presto che la Montgomery in realtà non aveva scritto solo Anna dai capelli rossi, ma che la storia di Anna era lunga ben otto romanzi. In Italia erano stati tradotti soltanto i primi sei, sempre dalla Mursia, e con difficoltà sono riuscita a recuperarli. E allora, il secondo è Anna dai capelli rossi, l'età meravigliosa, sempre edito Mursia. Poi abbiamo Anna dai capelli rossi, il baule dei sogni, in cui andiamo appunto seguendo la crescita lentamente di Anna. Non vi sto a dire la trama perché vi farei degli spoiler enormi, quindi è meglio non farlo. Poi il terzo romanzo, questo è il terzo, quindi il quarto romanzo, Anna dai capelli rossi, la casa dei salici al vento, qui vediamo un'Anna già più donna. Poi abbiamo la baia della felicità, si intuisce anche dalla copertina un po' cosa le sta succedendo, cosa le sta accadendo, quindi la seguiamo veramente nella sua crescita. E poi la Mursia si fermò con la grande casa, in cui vediamo un'Anna appunto con famiglia. A quel punto io in realtà, sempre, non sempre perché non mi basta, ho detto ma io so che sono otto, ma in Italia erano inediti gli ultimi due. Nel 2014 scopro che una casa editrice indipendente piccolina, non solo li aveva ripresi tutti dall'inizio e li aveva ritradotti dall'inizio, ma aveva incluso anche i famosi ultimi due libri che non erano mai giunti in Italia, e che sono La valle dell'arcobaleno, edito appunto Il gatto e la luna, e Rilla d'Ingleside, sempre edito da Il gatto e la luna. E qui, diciamo, arriviamo proprio alla vera conclusione. Recentemente, infine, ho scoperto che nel 2008, scusate se guardo il nome perché non me lo ricordo, Baggio Wilson, ecco, Baggio Wilson, chiese l'autorizzazione alla famiglia, diciamo, gli eredi della Montgomery, di avere la possibilità di tradurre quello che era stato scoperto essere un prologo che la Montgomery aveva scritto alla storia di Anna, un prologo in cui la Montgomery parla di Anna quando era proprio bambina, aveva ancora i suoi genitori, e poi successivamente si ammalarono e morirono. E questo libro si intitola Sorridi piccol'Anna dai capelli rossi, questo non lo possiedo perché tutt'oggi è difficilissimo da recuperare. Niente, che altro dirvi? Se vi va, io ve lo consiglio caldamente, provate a recuperare questi titoli successivi appunto al primo, non vi fermate solo al primo perché la storia merita, è veramente fantastica, seguire tutta la vita, tutte le vicende, dalla sua adolescenza, dalla sua infanzia, a questo punto, fino al suo diventare donna, madre e perché no nonna, merita, veramente. Li trovate sull'ibraccio, provate a cercarli magari nei mercatini dell'usato, ma oggi o su Amazon, io vedrò di inserirvi qualche link e vedere di aiutarvi in qualche modo. Spero di esservi stata di aiuto, che il video vi sia piaciuto, a presto, ciao!